Il primo aiutino del libro quiz, scusate ancora la voce ma stenta a tornare quindi ce ne vorrà per un bel pezzo, il primo aiutino di oggi che è l'unico che vi do, che è l'aiutino della settimana, il primo aiutino della settimana, scusate la piccola dicitura incrociata perché si tratta di quello della settimana, è il nome e cognome dell'autore. L'iniziale del nome è J di J, quel puntino, il cognome incomincia per E di Empoli, con questo ci vediamo sabato per il secondo aiutino e ancora come martedì tanti cari saluti a tutti. Ciao ciao!